Il Parma è in vantaggio, incredibile, non potevamo avere una partenza migliore e quindi gol di Dennis Mann, vi mando questa grafica, spero che vi piaccia. Bellissimo gol del Parma, grande recupero, fallo di Terranova centro campo che stende Vasquez ma l'abito giustamente fa proseguire per Dennis Mann. Dennis Mann al limite dell'area scarta sulla sinistra un difensore del Bari, si tratta di Maiello se non sbaglio e poi sinistro che va all'angolino e si insacca, quindi Parma in vantaggio dopo solo 3 minuti di gioco, Pecchia richiama l'ordine concentrazione. Parte Miaila E' grandissimo gol, ragazzi grandissimo gol di Miaila, grandissimo gol di Miaila, non ci credo, non ci credo, non ci avrei scommesso nulla, nulla ci avrei scommesso. Va a segnare Miaila, Miaila, e allora Miaila ti sei meritato un sigaro. Inbucata, perfetta, idiota, bellissima, quadrato, abito giusti, si vedrà io con un figlio diverso, rispetto a quella schifosa della nostra. Ah lo spizzi una volta, fighi mai, ormai, io lo giuro a quella merda. Ma che rosso! Oh ma la pata! Ah 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 ah! Ma incredibile! Ma buone amici! Ma incredibile! Sassuolo che lancia benissimo! Ma giocare vilare te! Ho detto a pallonetta incredibile! Un contropide logico! Si! Ma che amore! Mi fai un merda! Mi he scacciato! Che pegnati! Ah 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 ah. Che pegnano si vende qualche cosa, segnalo 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 segnalo! Si fai nulla! Gennalo! 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 Faici l'ingono! Guardati... Balaccio! Si fai culo! Fu un missile! Fu un missile! приgebrici! Fu un missile! Lascio andare tutto Ma dai che cazzo è Non lo so In pallomen Ma cos'è sta roba Cos'è L'ammazzo L'ammazzo L'ammazzo